Gardalan, il sogno di un bambino è andare a Gardalan Si sente un grande eroe dentro una favola E sembra di trovarsi in una nuvola Ciao ragazzi, oggi è domenica E visto che siamo in periodo pre-Halloween Ho deciso di portare la mia bambina a Gardaland Allestito tutto in stile Halloween Bambina, sei contenta? Sì, sono io la sua bambina Andiamo a Gardaland A Gardaland A Gardaland Stiamo andando in Camporella Siamo a Gardaland Ma dov'è il prezzemolo? Io voglio la foto con prezzemolo Non me ne vado via di qui Finché non mi faccio la foto con prezzemolo Avete capito? Ragazzi, allora Oggi Gardaland è pieno di bambini E visto che è Halloween Eeeh 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 Aspetta, Luis, Luis Luis, Luis Eeeh 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 PAUSA BIRRA PAUSA BIRRA Io vincerò un mignon La base Ma vale se è capitata Io non ho parole E allora c'è il mignon Io voglio un mignon Beh ragazzi il mignon Non l'abbiamo vinto Il pupazzone non l'abbiamo vinto Andiamo a sfogarsi con una pistola Siii Dignetto malefico Sei soddisfatto? Finiiii Certo Uno Grande Se hai vinto Se mi ricominci da capo Bravo Bravo Non puoi vinto giocare Si vince una volta Gioca a lei Vabbè gioco io BANANA 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 RAGAZZI 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 BANANA 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 墓 BANANA 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 ma in cambio BANANA! Il nostro centro è la bambina per ora R.I.P. Il nostro roccio è la suafica un'altra con il nostro carattere e di un'altra inizierci a via di mi hanno fatto un masellino e un'altra inizierci e di un'altra inizierci a via di Rolmi Ragazzi, anche questo video è andato. Ciao amici, se ritorniamo a casa con uno in più di noi. Vi ringraziamo di averci visto. Supportato, diciamo. Anche. Supportato. Vi aspettiamo al prossimo video con qui presente Banana. E se vi va? Quando vi vedete? Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Iscrivetevi. E come voleva si dimostrare, ci devo pensare io perché questi due test di cazzo non sanno trovare la macchina. E dobbiamo andare a lavorare ragazzi. Quindi siamo un po' di fronte. Dopo 4. Dopo 4. Dopo 5. Soprattutto 5. Grazie.